Il governo impugna l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia Musumeci Immigrazione e competenza dello Stato, dice al TG1 la Ministra dell'Interno Lamorgese che annuncia già trasferiti da Lampedusa 4.000 migranti. L'intervista è di Andrea Bovio. Ministro, come state affrontando l'emergenza a sbarchi e aggravata anche dal Covid? Noi abbiamo pensato innanzitutto alla sicurezza dei cittadini siciliani perché gli arrivi sono stati numerosi nel mese di luglio, agosto un po' di meno, soprattutto dalla Tunisia. Noi abbiamo posto in essere tutte le precauzioni, dapprima tutti i test serologici e oggi noi facciamo dall'inizio di agosto i tamponi a tutti coloro che arrivano. Nessuna autocritica da fare in Sicilia Musumeci ha intimato ai prefetti di sgomberare i centri. Guardi, in queste ore si sta per notificare il ricorso avverso l'ordinanza perché io ritengo che questa sia una competenza statale. Da Lampedusa stiamo ora liberando l'hotspot perché circa 800 migranti stanno salendo nelle due navi che noi abbiamo posto a disposizione, la nave Azzurra e la nave Aurelia. Circa 4.000 unità, quindi 4.000 migranti, sono stati trasferiti dalla Sicilia sul restante territorio nazionale. L'opposizione è molto critica, parla di governo impreparato, Salvini addirittura l'ha definita una criminale. Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite consentito dimostrando uno scarso rispetto per le istituzioni e soprattutto per questa amministrazione di cui tra l'altro è stato ministro.